novembre lo spazzacamino 1 martedì ieri sera andai alla sezione femminile accanto alla nostra per dare il racconto del ragazzo padovano alla maestra di silvia che lo voleva leggere 700 ragazze ci sono quando arrivai cominciavano a uscire tutte allegre per le vacanze di ogni santi e dei morti ed ecco una cosa bella che vidi di fronte alla porta della scuola dall'altra parte della via stava con un braccio appoggiato al muro e con la fronte contro il brazzo uno spazzacamino molto piccolo tutto nero in viso col suo sacco e il suo raschiatoio e piangeva dirottamente singozzando due o tre ragazze della seconda gli si avvicinarono e gli dissero che hai che piange a quella maniera ma egli non rispose e continuava a piangere ma di che cos'hai perché piangi gli ripeterono le ragazze e allora egli levò il viso dal braccio un viso di bambino e disse piangendo che era stato in varie case a spazzare dove sarà guadagnato 30 soldi e li aveva persi gli erano scappati per la sdruccitura ad una tasca e faceva veder la sdruccitura e non osava più tornare a casa senza soldi il padrone mi bastona disse singozzando e si riabbottonò il capo sul braccio come un disperato le bambine stettero a guardarlo tutte serie intanto si erano avvicinate altre ragazze grandi e piccole povere signorine con le loro cartelle sotto braccio e una grande che aveva una penna azzurra sul cappello cavò di tasca due soldi e disse io non ho che due soldi facciamo la colletta anch'io ho due soldi disse un'altra vestita di rosso ne troveremo ben 30 fra tutte e allora cominciarono a chiamarsi amalia luigia annina un soldo chi ha dei soldi qua i soldi parecchi avevano dei soldi per comprarsi fiori o quaderni e li portarono alcune più piccole diedero dei centesimi quella della penna azzurra raccoglieva tutto e contava ad alta voce 8 10 15 ma ci voleva altro allora comparve una più grande di tutte che pareva quasi una maestrina e diede mezza lira e tutte a farle festa mancavano ancora cinque soldi ora vengono quelle della quarta che ne hanno disse una quelle della quarta vennero e i soldi fioccarono tutte si affollavano ed era bello vedere quel povero spazzacamino in mezzo a tutte quelle vestine di tanti colori a tutto quel rigirio di penne di nastrini di rizzoli i 30 soldi c'erano già e ne venivano ancora e le più piccine che non avevano denaro si facevano largo tra le grandi forgendo i loro mazzetti di fiori tanto per dare qualcosa tutto un tratto arrivò la portinaia gridando la signora direttrice le ragazze scapparono da tutte le parti come uno stormo di passeri e allora si vide il piccolo spazzacamino in mezzo alla via che si asciugava gli occhi tutto contento con le mani piene di denari e aveva nella bottonatura della giacchetta nelle tasche nel cappello tanti mazzetti di fiori e c'erano anche dei fiori per terra ai suoi piedi il giorno dei morti 2 mercoledì questo giorno è consacrato alla commemorazione dei morti sai enrico a quali morti dovreste tutti dedicare un pensierino in questo giorno vogli altri ragazzi a quelli che morirono per voi per i ragazzi per i bambini quanti ne morirono e quanti ne muoiono di continuo pensasti mai a quanti padri si logono la vita al lavoro e quante madri discesero nella fossa innanzitempo consumate dalle privazioni a cui si condannarono per sostenere i loro figliuoli sai quanti uomini si piantarono un bello nel cuore per la disperazione di vedere i propri ragazzi nella miseria e quante donne s'annegarono o morirono di dolore o impazzirono per aver perduto un bambino pensa a tutti quei morti in questo giorno enrico pensa alle tante maestre che sono morte giovani intisichite dalle fatiche della scuola per amor dei bambini da cui non ebbero cuore di separarsi pensa ai medici che morirono di malattie attaccatizze sfidate coraggiosamente per curare dei fanciulli pensa a tutti coloro che nei naufragi negli incendi nelle carestie in un momento di supremo pericolo cedettero all'infanzia l'ultimo tozzo di pane l'ultima tavola di salvamento l'ultima fune per scampare alle fiamme espirarono contenti del loro sacrificio che servava in vita un piccolo innocente sono innumerevoli enrico questi morti ogni cimitero ne racchiude centinaia di queste sacre creature che se potessero levarsi un momento dalla fossa griderebbero il nome di un fanciullo al quale sacrificarono i piaceri della gioventù la pace della vecchiaia gli affetti l'intelligenza la vita sposi di vent'anni uomini nel fiore delle forze vecchie attuagenarie giovinetti martiri eroici oscuri dell'infanzia così grandi e così gentili che non fa tanti fiori la terra quanti ne dovremmo dare ai loro sepolcri tanto siete amati o fanciulli pensa oggi a quei morti con gratitudine e sarai più buono e più affettuoso con tutti quelli che ti vogliono bene che fatican per te caro figlio al mio fortunato che nel giorno dei morti non hai ancora da piangere nessuno tua madre il mio amico garrone 4 venerdì non ci furono che due giorni di vacanza e mi parvi di star tanto tempo senza rivedere garrone quanto più lo conosco tanto più gli voglio bene e così segue a tutti gli altri forché ai prepotenti che con lui non se la dicono perché egli non lascia far prepotenze ogni volta che uno grande alza la mano su di un piccolo il piccolo grida garrone e il grande non lo picchia più suo padre è macchinista della strada ferrata egli cominciò tardi le scuole perché fu malato due anni è il più alto e il più forte della classe alza un banco con una mano mangia sempre è buono qualunque cosa gli domandino matita gomma carta temperino impresta o da tutto e non parla e non ride in scuola se ne sta sempre immobile nel banco troppo stretto per lui con la schiena arrotondata e il testone dentro le spalle e quando lo guardo mi fa un sorriso con gli occhi socchiusi come per dirmi ebbene enrico siamo amici mi fa ridere grande e grosso come chi ha giacchetta calzoni maniche tutto troppo stretto e troppo corto un cappello che non gli sta in capo il capo rapato le scarpe grosse e una cravatta sempre attorcigliata come una corda caro garrone basta guardarlo in viso una volta per prendergli affetto tutti i più piccoli gli vorrebbero essere vicini di banco sa bene l'aritmetica porta i libri a castellina legati con una cigna di cuoio rosso a un coltello col manico di madre perla che trovò l'anno passato in piazza d'armi e un giorno si tagliò un dito fino all'osso ma nessuno in scuola se ne avvide e a casa non rifiatò per non spaventare i parenti qualunque cosa si lascia dire per celia e mai non se ne ha per male ma guai se gli dicono non è vero quando afferma una cosa getta fuoco dagli occhi allora e martella pugni da spaccare il banco sabato mattina diede un soldo a uno della prima superiore che piangeva in mezzo alla strada perché gli avevano preso il suo e non poteva più comprare il quaderno ora sono tre giorni che sta lavorando attorno a una lettera di otto pagine con ornati a penna nei margini per l'onomastico di sua madre che spesso viene a prenderlo ed è alta e grossa come lui e simpatica il maestro lo guarda sempre e ogni volta che gli passa accanto gli batte la mano sul collo come a un buon torello tranquillo io gli voglio bene sono contento quando stringo nella mia la sua grossa mano che parla mano di un uomo sono così certo che rischierebbe la vita per salvare un compagno che si farebbe anche ammazzare per difenderlo si vede così chiaro nei suoi occhi e benché paia sempre che brontoli con quel vocione è una voce che viene da un cor gentile si sente il carbonaio il signore 7 lunedì non l'avrebbe mai detta garrone sicuramente quella parola che disse ieri mattina Carlo Nobis è superbo perché il suo padre è un gran signore un signore alto con tutta la barba nera molto serio che viene quasi ogni giorno ad accompagnare il figliuolo ieri mattina Nobis si bisticciò con Betty uno dei più piccoli figliuolo d'un carbonaio e non sapendo più che rispondergli perché aveva torto gli disse tuo padre è uno straccione Betty arrossi fino ai capelli e non disse nulla ma gli vennero le lacrime agli occhi e tornato a casa ripete le parole al suo padre ed ecco il carbonaio un piccolo uomo tutto nero che compare alla lezione del dopo pranzo col ragazzo per mano a fare le lagnanze al maestro mentre faceva le sue lagnanze al maestro e tutti tacevano il padre di Nobis che levava il mantello al figliuolo come al solito sulla soglia dell'uscio udendo pronunciare il suo nome entrò e domandò spiegazione è questo l'operaio rispose il maestro che è venuto a lagnarsi perché il suo figliuolo Carlo disse al suo ragazzo tuo padre è uno straccione il padre di Nobis corrugò la fronte arrossi leggermente poi domandò al figliuolo hai detto quella parola il figliuolo ritto in mezzo alla scuola col capo basso davanti al piccolo Betty non rispose allora il padre lo prese per un braccio e lo spinse più avanti in faccia a Betty che quasi si toccavano e gli disse domandogli scusa il carbonaio voleva interporsi dicendo no no ma il signore non gli badò e ripete al figliuolo domandogli scusa ripeti le mie parole io ti domando scusa della parola ingiuliosa insensata ignobile che dissi contro tuo padre al quale il mio si tiene onorato di stringere la mano il carbonaio fece un gesto risoluto come a dire non voglio il signore non gli eretto e il suo figliuolo disse lentamente con un fil di voce senza alzare gli occhi da terra io ti domando scusa della parola ingiuliosa insensata ignobile che dissi contro tuo padre al quale il mio si tiene onorato di stringere la mano allora il signore porse la mano al carbonaio il quale gli rastrinse con forza e poi subito con una spinta e poi subito con una spinta gettò il suo ragazzo fra le braccia di carlo nobis mi faccia il favore di metterli vicini disse il signore al maestro il maestro mise betti nel banco di nobis quando furono al posto il padre di nobis fece un saluto ed uscì il carbonaio rimase qualche momento sopra pensiero guardando ai due ragazzi vicini poi si avvicinò al banco e fissò nobis con espressione d'affetto e di rammarico come se volesse dirgli qualcosa ma non disse nulla allungò la mano per fargli una carezza ma neppure osò e gli strisciò soltanto la fronte con le sue grosse dita poi si avviò all'uscio e voltatosi ancora una volta a guardarlo sparì ricordatevi bene di quel che avete visto ragazzi disse il maestro questa è la più bella lezione dell'anno la maestra di mio fratello 10 giovedì il figliuolo del carbonaio fu scolaro della maestra del cati che è venuta oggi a trovare mio fratello malattizzo e che ci ha fatto ridere raccontandoci che la mamma di quel ragazzo due anni fa le portò a casa una grande grembialata di carbone per ringraziarla che aveva dato la medaglia al figliuolo e sostinava povera donna non voleva riportarsi il carbone a casa e piangeva quasi quando dovette tornarsene col grembiale pieno anche un'altra buona donna ci ha detto che le portò un mazzetto di fiori molto pesante e c'era dentro un gruzzoletto di soldi siamo molto divertiti a sentirla e così mio fratello trangugiò la medicina che prima non voleva quanta pazienza debbono avere con quei ragazzi della prima inferiore tutti sdentati come vecchietti che non pronunziano la r e la s e uno tosse l'altro fila sangue dal naso chi perde gli zoccoli sotto il banco e chi bela perché se punto con la penna e chi piange perché ha comprato un quaderno numero due invece di numero uno 50 in una classe che non sa nulla con quei manini di burro e dover insegnare a scrivere a tutti e si portano in tasca dei pezzi di regolizia dei bottoni dei turaccioli di boccetta del mattone tritato ogni specie di cose minuscole e bisogna che la maestra li frughi ma nascondano gli oggetti fin nelle scarpe e non stanno attenti un moscone che entra per la finestra mette tutti sotto sopra e l'estate portano in scuola delle erbe e dei maggiolini che volano in giro cascano nei calamai e poi rigano i quaderni di inchiostro la maestra deve far la mamma con loro aiutarli a vestirsi fasciare le dita punte raccattare i berretti che cascano badare che non si scambino i cappotti se no poi gnaulano e strillano poveri maestre e ancora vengono le mamme alagnarsi come va signorina che il mio bambino ha perso la penna com'è che il mio non impara niente perché non dà la menzione al mio che sa tanto perché non fa levare quel chiodo dal banco che ha stracciato i calzoni al mio piero qualche volta s'arrabbia coi ragazzi la maestra di mio fratello e quando non ne può più si morde un dito per non lasciare andare una pacca perde la pazienza ma poi si pente e carezza il bambino che ha sgridato scaccia un monello di scuola ma si ribeve le lacrime e va in collera coi parenti che fan digiunare i bimbi per castigo è giovane e grande la maestra del cati è vestita bene bruna e requieta che fa tutto a scatto di molla e per un nulla si commuove e allora parla con grande tenerezza ma almeno i bimbi le si affezionano le ha detto mia madre monti sì ha risposto ma poi finito l'anno la maggior parte non ci guarda in più quando sono coi maestri si vergognano quasi d'essere stati da noi da una maestra dopo due anni di cura dopo che ci ha amato tanto un bambino ci fa tristezza separarci da lui ma si dice ah di quello lì son sicura quello lì mi vorrà bene ma passano le vacanze si rientra alla scuola gli corriamo incontro no bambino bambino mio e lui volta il capo da un'altra parte qui la maestra si è interrotta ma tu non farai così pizzino ha detto poi alzandosi con gli occhi umidi e baciando mio fratello tu non la volterai la testa dall'altra parte non è vero non la rinnegherai la tua povera amica mia madre 10 giovedì in presenza della maestra di tuo fratello tu mancasti di rispetto a tua madre questo non avvenga mai più enrico mai più la tua parola irriverente ma è entrata nel cuore come una punta d'acciaio io pensai a tua madre quando anni or sono stette chinata tutta una notte sul tuo piccolo letto a misurare il tuo respiro piangendo sangue dall'angoscia e battendo i denti dal terrore che credeva di perderti ed io temevo che smarrisse la ragione e a quel pensiero provai un senso di ribrezzo per te tu offender tua madre tua madre che darebbe un anno di felicità per risparmiarti un'ora di dolore che me indicherebbe per te che si farebbe uccidere per salvarti la vita senti enrico fissati bene in mente questo pensiero immagina pure che ti siano destinati nella vita molti giorni terribili il più terribile di tutti sarà il giorno in cui perderai tua madre mille volte enrico quando già sarai uomo forte provato a tutte le lotte tu la invocherai oppresso da un desiderio immenso di risentire un momento la sua voce e di rivedere le sue braccia aperte per gettarvi ti singhiozzando come un povero fanciullo senza protezione e senza conforto come ti ricorderai allora ogni amarezza che l'avrai cagionato e con che rimorsi le sconterai tutte infelice non sperare serenità nella tua vita se avrai contristato tua madre tu sarai pentito le domanderai perdono venerarai la sua memoria inutilmente la coscienza non ti darà pace quell'immagine dolce e buona avrà sempre per te un'espressione di tristezza e di rimprovero che ti metterà l'anima alla tortura enrico bada questo è il più sacro degli affetti umani disgraziato chi lo calpesta l'assassino che rispetta sua madre ha ancora qualcosa di onesto e di gentile nel cuore il più glorioso degli uomini che la dolori e l'offenda non è che una vile creatura che non tesca mai più dalla bocca una dura parola per colei che ti diede la vita e se ancora te ne sfuggisse non sia il timore di tuo padre sia l'impulso dell'anima che ti getti ai suoi piedi a supplicarla che col bacio del perdono ti cancelli dalla fronte il marchio dell'ingratitudine io t'amo figlio il mio tu sei la speranza più cara della mia vita ma vorrai piuttosto vederti morto che ingrato a tua madre va e per un po di tempo non portarmi più la tua carezza non te la potrai ricambiare col cuore tuo padre il mio compagno corretti 13 domenica mio padre mi perdonò ma io rimase un poco triste e allora mia madre mi mandò col figliolo grande del portinaio a fare una passeggiata sul corso a metà circa del corso passando vicino a un carro fermo davanti a una bottega mi sento chiamare per nome mi volto era corretti il mio compagno di scuola con la sua maglia color cioccolata e il suo berretto di pelo di gatto tutto sudato e allegro che aveva un gran carico di legna sulle spalle un uomo ritto sul carro gli porgeva una bracciata di legno per volta e gli le pigliava e le portava nella bottega di suo padre dove in fretta in furia le accatastava che fai corretti gli domandai non vedi rispose tendendo le braccia per pigliare il carico ripasso la lezione io risi ma egli parlava sul serio e presa la brazzata di legna cominciò a dire correndo chiamansi accidenti del verbo le sue variazioni secondo il numero secondo il numero e la persona e poi buttando giù la legna e accattastandole secondo il tempo a cui si riferisce l'azione ritornando verso il carro a prendere un'altra brazzata secondo il modo in cui l'azione è enunciata era la nostra lezione di grammatica per il giorno dopo che vuoi mi disse metto il tempo approfitto mio padre è andato via col garzone per una faccenda mia madre è malata tocca a me a scaricare intanto ripasso la grammatica è una lezione difficile oggi non riesco a pestarmela nella testa mio padre ha detto che sarà qui alle sette per darvi i soldi disse poi all'uomo del carro il carro partì vieni un momento in bottega mi disse corretti entrai era uno stanzone pieno di cataste di legna e di fascine con una stadera da una parte oggi è giorno di sgobbo te lo accerto io ripigliò corretti devo fare il lavoro a pezzi e a bocconi stavo scrivendo le proposizioni è venuta gente a comprare mi sono rimesso a scrivere eccoti il carro questa mattina ho già fatto due corse al mercato della legna in piazza venezia non mi sento più le gambe e ho le mani gonfie starei fresco se avessi il lavoro di disegno e intanto dava un colpo di scopa alle foglie secche ai fucelli che coprivano l'ammattonato dove lo fa il lavoro corretti gli domandai non qui di certo riprese vieni a vedere e mi condusse in uno stanzino dietro la bottega che serve da cucina e da stanza da mangiare con un tavolo in un canto dove c'aveva i libri e i quaderni e il lavoro incominciato giusto appunto disse ho lasciato la seconda risposta per aria col cuoio si fanno le calzature le cinghe ora ci aggiungo le valigie e presa la penna si mise a scrivere con la sua bella calligrafia c'è nessuno su di gridare in quel momento dalla bottega era una donna che veniva a comprare fascinotti eccomi rispose corretti saltò di là pesò i fascinotti presi i soldi corse in un angolo a segnare la vendita in uno scartafaccio e ritornò al suo lavoro dicendo vediamo un po se mi riesce di finire il periodo e scrisse le borse da viaggio i zaini per i soldati ah il mio povero caffè che scappa via gridò all'improvviso e corse al fornello a levare la caffettiera dal fuoco è il caffè per la mamma disse bisogna bene che imparassi a farlo aspetta un po che glielo portiamo così ti vedrà le farà piacere sono sette giorni che ha letto accidenti del verbo mi scotto sempre le dita con questa caffettiera che cos'ho da aggiungere dopo gli zaini per i soldati ci vuole qualche altra cosa e non la trovo vieni dalla mamma ha perse un uscio entrammo in un'altra camera piccola c'era la mamma di corretti in un letto grande con un fazzoletto bianco intorno al capo ecco il caffè mamma disse corretti porgendo la tazza questo è un mio compagno di scuola ah bravo il signorino disse la donna viene a far visita ai malati non è vero intanto corretti accomodava i guanciali dietro alle spalle di sua madre raggiustava le coperte del letto riattizzava il fuoco cacciava il gatto dal cassettone non corre altro mamma domando poi ripigliando la tazza vi avete presi i due cucchiaini di sciroppo quando non ce ne sarà più darò una scappata dallo speziale le legna sono scaricate alle quattro metterò la carne al fuoco come avete detto e quando passerà la donna del burro vedrò quegli otto soldi tutto andrà bene non vi date pensiero grazie figliuolo rispose la donna povero figliuolo va egli pensa a tutto volle che pigliasse un di zucchero e poi corretti mi mostrò un quadretto il ritratto in fotografia di suo padre vestito da soldato con la medaglia al valore che guadagnò nel 66 nel quadrato del principe umberto lo stesso viso del figliuolo con quegli occhi vivi e quel sorriso così allegro tornammo nella cucina ho trovato la cosa disse corretti e aggiunse sul quaderno si fanno anche i finimenti dei cavalli il resto lo farò stasera starò levato fino a più tardi felice te che hai tutto il tempo per studiare e puoi ancora andare a passeggio e sempre gaio e lesto rientrato in bottega cominciò a mettere dei pezzi di legno sul cavalletto e a secarli per mezzo e diceva questa è ginnastica altro che la spinta delle braccia avanti voglio che mio padre trovi tutte queste legne assegate quando torna a casa sarà contento il male è che dopo aver segato faccio dei t e degli l che paio un serpenti come dice il maestro che c'ho da fare gli dirò che ho dovuto menare le braccia quello che importa è che la mamma guarisca presto questo sì oggi sta meglio grazie al cielo la grammatica la studierò domattina al canto del gallo oh ecco la carretta coi ceppi al lavoro una carretta carica di ceppi si fermò davanti alla bottega corretti corse fuori a parlare con l'uomo poi tornò ora non posso più tenerti compagnia mi disse arrivederci domani hai fatto bene a venirmi a trovare buona passeggiata felice te e strettami la mano corse a pigliare il primo ceppo e ricominciò a trottare fra il carro e la bottega col viso fresco come una rosa sotto il suo berretto di pel di gatto e vispo che metteva allegrezza a vederlo felice te egli mi disse eh no corretti no sei tu il più felice tu perché studi e lavori di più perché sei più utile a tuo padre e a tua madre perché sei più buono cento volte più buono e più bravo di me caro compagno mio